Oggi saremo qui a futuro remoto a discutere dell'intelligenza, quella biologica e quella naturale si realizza nei cervelli e anche di coscienza e della possibilità che le macchine possano avere oltre che intelligenza, che per certi versi hanno già anche coscienza, consapevolezza. La mia idea riguarda è piuttosto semplice, credo che sarà possibile prima o poi a condizione che le macchine possedgano dei corpi e che questi corpi interagiscano con l'ambiente. Questa è la condizione fondamentale per ottenere non solo un'intelligenza artificiale ma anche una coscienza artificiale.